Buongiorno a tutti. Iniziamo. Vespasiani, Roma di Roma. Eccoci, buongiorno mister. Le chiedo, la Roma quest'anno ha dimostrato di fare difficoltà sulle partite cosiddette abbordabili. Allora, dico, è più importante l'approccio mentale o fisico? Beh, vanno messi insieme. Mettiamoci anche quello tecnico, perché se alla fine fai un buon approccio, sia fisico che mentale, tecnicamente sbagli tanto, serve a poco. Per quello bisogna essere un po' completi per poter andare a competere e cercare di migliorare questo rendimento, specialmente in casa, che bisogna veramente migliorare. Rossomando, Roma Radio. A proposito di fisico, mister, volevo chiedere come sta la squadra alla fine di questo ciclo di partite e se per domani sta pensando di cambiare qualcosa, vista anche la trasferta lunga che c'è stata a Mosca. Beh, sicuramente qualcosa si cambierà, però sto facendo le mie valutazioni in base a come rientrano i ragazzi e anche all'ultimo allenamento. Perché ci sono dei calciatori che hanno fatto tante partite in questo periodo, valuteremo anche insieme a loro la condizione e lo stato un po' generale, sia fisico che mentale. La voglia di cambiare tanto non c'è, però le esigenze di questa gara e l'aspetto fisico diventano poi importantissime per poter fare una partita contro una squadra che ha ritmo, che ha verticalità, che ha capacità di andare a cercare subito i propri attaccanti per far male agli avversari e noi dobbiamo essere bravi a essere pronti sia fisicamente che mentalmente. Mangiante Sky. Eccoci. L'abbiamo visto forse nei suoi migliori 70 minuti a Mosca, cioè molto continuo, tempi giusti di inserimento, soprattutto continuo ecco, quindi nella gestione. Ha superato quella fase, cioè è uno che adesso può giocare anche due partite di fila da titolare? No, ma al di là delle due o uno o tre partite di fila, devo dire che sta crescendo, che è la cosa più importante. Il percorso è anche attraverso altre prestazioni meno convincenti o con errori. Per me è un po' quello che ho detto anche alla squadra, scherza un po' meno in campo, nel senso che fa meno dribbling fine a se stessi ma cerca di essere più concreto e quando punta l'avversario deve far male, quello che voglio da lui. Ha le qualità, le capacità sia di poter dribbla un avversario ma anche di attaccare la profondità. Se riesce ad alternare con più capacità questi movimenti può cominciare a diventare veramente un giocatore importante. Credo che un ragazzo che ha grandi prospettive però non deve mai smettere di superare gli esami, tra virgolette, perché deve sempre cercare di migliorarsi giorno dopo giorno. Sono contento della sua crescita ma non basta ancora, può darci ancora molto di più, perché esempio anche l'altro giorno nelle scelte finali ha fatto delle ottime cose ma poteva fare anche altre scelte ancora più qualitative perché ce le ha, sia nel suo modo di giocare ma anche proprio come caratteristiche e questo deve ancora crescere. Matera Sport Italia. Salve mister, le volevo chiedere a che punto è il recupero di Pastore visto che era rientrato tra i convocati con la Fiorentina e con il CSKA però con il CSKA è fino addirittura in tribuna? Addirittura. Si va in tribuna se non si sta al meglio, di fatti lui domani non sarà convocato perché ha avuto ieri un piccolo fastidio, deve dare ancora un po' di continuità. Onde evitare qualsiasi problema magari per mettere la partita in corso visto che non hai 90 minuti, giustamente non lo porterò e cercherò di recuperarlo per la partita successiva. Poi non è questione di addirittura non addirittura, non mi piace già come concetto perché tutti fanno parte di una rosa di una squadra, tutti possono giocare e tutti possono andare fino in tribuna. Qua nessuno ha il posto assicurato ma lo faccio per far capire che quando il Flaco sarà al meglio per noi sarà sicuramente un giocatore importante ma deve ritrovare una condizione fisica ottimale. Pastore Romanista. Buongiorno. Sì. Negli ultimi tempi Verossi è stato sostituito spesso da Cristante in un'occasione da Pellegrini. Sta pensando a ulteriori soluzioni davanti alla difesa magari anche per dare fiato a Zonzi? Ma no, le soluzioni sono quelle lì. Ci può essere Cioric che ho fatto lavorare in questo periodo anche in questa zona di campo, devo dire che anche lui sta crescendo, però in questo momento abbiamo bisogno anche un po' di certezze, di sicurezze e dobbiamo sbagliare il meno possibile approccio alla partita. È normale che queste valutazioni le sto facendo, come ho detto prima, anche sui centrocampisti che hanno giocato tanto e che hanno speso molto. Zonzi è un tipo di giocatore che non ha dei picchi di velocità altissima nel suo modo di giocare, ma ha grande continuità, ha grande presenza nella gara. Mosca penso che abbia fatto una delle sue migliori prestazioni dal punto di vista generale, è un giocatore in crescendo. Il fatto che domani possa giocare o meno non lo so, ma è anche probabile che lo rimetta dal primo minuto. Maida, il Corriere dello Sport. Buongiorno, la mia domanda è su El Sharaw invece, al precedente dal fatto che poi decida di farlo giocare domani. Lui è il capocannoniere della Roma in campionato, anche per le difficoltà che ha avuto Dzeko in Serie A, però sembra sempre un po' a metà del guado, non so se la vede come me. Non riesce mai a dimostrare definitivamente le sue grandi qualità, tant'è vero che le faccio osservare questo dato e le chiedo di commentarlo. Nei quasi 50 convocati di Mancini non è mai ancora comparso nella nazionale, è un po' sottovalutato, è lui che non è ancora arrivato al top delle sue potenzialità. Quella della scelta di Mancini non lo so perché non ci ho mai parlato con Mancini di questo e non mi ha mai chiesto di El Sharaw e del suo rendimento, per quello non posso giudicare l'operato dei miei colleghi. È una scelta ed è legittima il fatto che non sia convocato in nazionale. Il fatto che Stefano abbia fatto anche delle ottime prestazioni quest'anno, magari non ha avuto grande continuità come è capitato in passato, ma per me è cresciuto tanto sia dal punto di vista fisico, di presenza nella partita. Io sono contento del suo rendimento ma è un altro giocatore di cui non si deve accontentare, voglio sempre di più e questo parte sempre un pochino da una mentalità, da un approccio, dal fatto che lui è cresciuto, ha sempre anche un anno in più rispetto all'anno scorso, però lo vedo un pochino più presente da questo punto di vista. E' migliorato ma può fare ancora molto di più. Cerdini, Gazzetta dello Sport. Buongiorno mister. Una domanda in pieno conflitto di interessi. Si affrontano domani due allenatori abruzzesi. Fra Serie A e Serie B sono sei gli allenatori abruzzesi, di scuola abruzzesi. Più o meno una media di uno ogni duecentomila abitanti, che è la media più alta fra tutte le compagini fra Serie A e Serie B. E' un caso, è uno scherzo del destino, è una coincidenza. Oppure Marco Giampaolo dice che gli abruzzesi si intendono di calcio, hanno avuto spesso in passato grandi allenatori e sono cresciuti con questo culto del pallone nel senso stretto. Oppure è solo una pura coincidenza? Per me è una pura coincidenza. Al di là che io poi in Abruzzo ci sono stato meno che in altre regioni, in altri posti. Per quello non posso dire che grande cultura ci sia. Ma a Pescara, dove vivo io, c'è una cultura come c'è a Roma. Nel senso che siamo tutti dei buoni allenatori, anche dal macellaio al parrucchiere. Per quello cambia poco, no? Gli allenatori stanno un po' da tutte le parti, più e chi meno. Poi c'è chi fa questo lavoro con determinate competenze. E Marco è uno di quelli. Devo dire che è un allenatore che si è fatto per strada, ha passato anche dei momenti difficili, ma adesso sta meritando il fatto di allenare in sera perché io l'ho detto anche in passato, magari in intervista anche alla Gazzetta, che ho rubato qualcosina anche a lui quando ho cominciato ad allenare perché era uno di quegli allenatori a cui facevo riferimento per determinate situazioni di gioco. De Angelis, Rete Sport. Salve mister. Per quanto riguarda il problema dell'atteggiamento, perché se ne è parlato molto, anche ieri Juan Jesus e Fazio hanno detto delle cose relative alla concentrazione, più che altro. È più facile trovarla quando si affrontano partite di Champions, un po' meno in campionato. Ora, come si lavora su questo aspetto e soprattutto con la consapevolezza del fatto che in Champions ci si torna se il campionato si fa bene, ovviamente? Guarda, hai detto la cosa più giusta di tutte. È una cosa che ripeto continuamente ed è normale che deve spostare gli equilibri mentali di questa squadra, che deve approcciare a queste partite con maggiore continuità. Però in Champions abbiamo anche vinto, ma per me, ad esempio, l'ultima mezz'ora quando siamo stati in Greci, non mi è piaciuta per niente. Non è che non mi sia piaciuta perché alla fine la Roma in Champions negli ultimi anni non mi ricordo se abbia mai fatto questi risultati o abbia ottenuto determinati successi. E questo è un motivo di orgoglio per me e per la mia squadra. Però il fatto di accontentarsi è una cosa che mi dà noia veramente in maniera impressionante. Perché queste partite vanno chiuse, queste partite vanno vinte in un determinato modo, convincendo, prendendo sicurezza e prendendo forza e cercando di prevalere nettamente su un avversario quando sei nel dominio della partita. E questo è un aspetto mentale, un aspetto che tu non devi smettere di fare quella corsetta in più che ti permette di metterti a posto. E in campionato dobbiamo trovarla subito, non abbiamo tempo di ragionare troppo sul fatto che si preparano meglio. Per me le partite devono essere trattate nello stesso modo, punto e basta. Per quello domani va approcciata questa partita, che ci sia o non la musichetta, magari le la metto prima, va approcciata nello stesso modo perché dobbiamo portare a casa i tre punti. Poi la prestazione diventa una cosa e il risultato poi è un'altra, non possiamo analizzarla nello stesso modo. Per quello voglio, in questo caso voglio una prestazione convincente per poter poi fare un ottimo risultato. Facciamo l'ultima, Trinca, Tedera di Asterio. Salve mister, prima della partita di Napoli parlò di un attacco molto mobile, in quel caso giocò Juan Jesus al centro della difesa contro il CSK a Mosca con un centravanti e rientrato nuovamente in campo fazio del primo minuto. Le chiedo se domani sarà di nuovo il turno di Juan Jesus per quel che riguarda la titolarità. Potrebbe giocare di nuovo Juan Jesus, poi deciderò chi metterà al suo fianco, però potrebbe giocare dall'inizio sì Juan Jesus. Perché ritengo che sia un giocatore in questo momento che è in un'ottima condizione di forma e sta nelle partite in cui l'ho messo in campo e mi ha dato sempre delle risposte importanti. Grazie. Ciao. Grazie. Grazie.